Sono 4 milioni e mezzo le persone con diabete in Italia e un milione assume insulina più volte al giorno e dovendo tenere sempre sotto controllo i propri livelli di glicemia nel sangue. Oggi però la tecnologia viene in aiuto grazie a dispositivi di somministrazione dell'insulina informatizzati e intelligenti, penne smart riutilizzabili e ricaricabili. E proprio in questi giorni l'azienda Novo Nordisk presenta due penne smart che permetteranno alle persone con diabete di gestire più facilmente il controllo glicemico e quindi la malattia. Queste penne intelligenti sono dei sistemi integrati che consentono di raccogliere i dati dalla penna che somministra insulina ogni volta che il paziente la utilizza. Quindi sono degli strumenti che consentono di raccogliere informazioni sulla quantità di insulina somministrata, il timing della somministrazione di insulina, il tipo di insulina, tutte informazioni preziose sia per il paziente che per il provider, per l'operatore sanitario. Le penne intelligenti consentono al paziente di rendersi conto in maniera più immediata della relazione tra la terapia e la sua vita ordinaria e al medico di ricostruire in maniera integrata il profilo glicemico e l'impatto della terapia per dare consigli alla persona con il diabete per una terapia sempre più personalizzata. Attraverso un'applicazione i messaggi sono trasferiti su di un cloud e io per esempio che sono il medico o immaginiamo anche un parente di un paziente con il diabete, a distanza può seguire quello che sta accadendo nel caso specifico del medico al paziente o nel caso del caregiver al proprio caro. Per cui noi oggi abbiamo possibilità di aiutare il nostro paziente in maniera molto più concreta perché abbiamo le informazioni per poterlo fare. Avere quindi un suggeritore, avere qualcuno che ti aiuta a prendere la decisione giusta, qualcuno che raccoglie le informazioni su quello che tu hai fatto, evitandoti ad esempio di insegnarlo o di doverlo registrare su un diario cartaceo, avere la possibilità di accedere facilmente a tutto ciò che hai fatto nei giorni precedenti, l'andamento della glicemia real time, si trasforma in un beneficio enorme e noi stimiamo che grazie a questo beneficio sarà più facile la vita per le persone con il diabete e sarà anche più facile arrivare a un buon controllo del diabete nelle persone che oggi vivono con l'insulina.